Colleghiamoci con l'altro ambiente esterno dove troveremo il nostro Ramono. Trappi... Ciao Corrado! Ciao Ramono! E sai, non mi avevano avvertito che mi avevano dato la linea, qui non sono mai molto professionale. Bene, senti Corrado, in questa magnifica atmosfera natalizia, sono qui anche io in uno studio televisivo, uno studio celeberrimo, lo famoso studio 12, e io mi sono documentato molto attentamente, devi sapere che questo studio è uno degli studi più importanti della RAI, dove sono state realizzate le più grandi produzioni, te ne cito qualcuna così a caso, ehi non so, Giocagio, ehi Promessi Sposi, oggi al Parlamento, e addirittura, questo in anteprima per i nostri spettatori, sono stati qui realizzati tutti gli esterni del Marco Polo nel deserto, visto che alla RAI gli mancano un po' i fondi, e allora, tutti gli esterni del deserto, forse qualcuno avrà anche riconosciuto Tony De Vita come cammelliere, ma... no come cammello, cammelliera, abbiamo precisato. Senti, io vorrei presentare il mio concorrente. Sì, dov'è? Ti piace il mio vestitino di stasera? Sì, molto, molto, che è un po' spollato. Aspetti che la chiamo io. Senti, Corrado, io me lo, non me lo ricordo, però l'ho scritto io, perché mi ricordo mai niente, ecco, leggo bene, signor Saboni. Saboni, no, forse... No, mi dice Gia, Sabani, ecco venga, signor Sabani. Un bell'applauso, un bell'applauso. Buonasera. Caro, buonasera, non si prenda confidenza. Caro signor Sabani, lei da dove vieni? Da Roma. Da Roma. E che cosa svolgi nella vita? Mi diverto e basta. Con questa faccia. Vabbè, ognuno Corrado fa quello che può, che ti devo dire? Allora, un momento, vorrei, scusami, vuole dire qualcosa al suo partner? Ciao Gigi, come stai? Spacca tutto, Giulio! Spacca tutto! Dai, dai, spacca! Va bene, sì, sì, lo so. Come vedi abbiamo dei concorrenti calmissimi stasera. Io prego il mio concorrente di incappucciarsi perché io faccio già troppe cose, il mio lavoro è troppo complicato, non posso stare... Ecco, 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 ecco. Allora, Ramono, sei pronto? Sì, voglio andare a nascondere le mie chiave. Dai pure. Dai pure. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Giù su, giù su, indietro, ci sei, ci sei, ci sei, ci sei, bravo! Avanti, 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 a destra, 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 giù, 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 Avanti, 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 sinistra, 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 avanti, 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 sinistra, avanti, avanti, ci sei, giù, su, giù, su, giù, su, ci sei, su, 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 su vieni qua ci sei, ci sei, Dessere, Sinistre, 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 Dessere. Sinistre ci sei, Dessere, sinistre, Città, No! No! John! Signore qua, qua qua, qua qua! 3, 3, 3, 3, 3. Indietro! Indietro, 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 indietro! Indietro? Ma dove indietro? Indietro! Ma dove, dove indietro? Vieni con me! Vieni qua. Scusa, eh. Eccola qua! Grazie.